E allora, tra gli obiettivi del Ministero dell'Interno, come sapete c'è un grande piano nazionale di smantellamento degli insediamenti abusivi. Un recente intervento riguarda l'area irregolare di Borgo Mezzanone, siamo in provincia di Foggia, dove vivevano quasi 1700 persone. L'ultimo sgombero è stato effettuato la scorsa settimana, dopo quelli di febbraio, marzo e aprile. Su circa 20 ettari di villaggio abusivo ne sono stati per ora abbattuti 7, però lo smantellamento proseguirà. Eh sì, un vero e proprio ghetto, quello di Borgo Mezzanone, fatto di baracche in lamiera, case a luci rosse, ristorante, e perfino, pensate, una discoteca, un insediamento pericolante, dove da oltre 20 anni vivevano per lo più immigrati irregolari, sfruttati come braccianti nei campi dal caporalato locale. Dici bene Valentina, persone sfruttate, noi ne parliamo col prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani. Buongiorno, sono il prefetto. Lei conosce bene, tra l'altro, la situazione, perché fino a maggio di quest'anno era prefetto di Foggia. Guardiamo insieme però il servizio della nostra inviata Claudia Antinoro, che è andata a vedere a che punto è la situazione adesso. La regia è di Giovanni Messina. Questa era una pista dove decollavano e atterravano ieri i militari. Oggi è il ghetto di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Un insediamento abusivo che risale a circa 20 anni fa, quando già allora i caporali cercavano uomini e donne che lavorassero per pochi soldi, pagati in nero e senza tutele. Così, da piccoli nuclei e abitativi spontanei, si sono trasformati in quello che ora è un vero e proprio villaggio, dove la criminalità fa da padrone. Fino a qualche mese fa, anche qui, c'erano delle baracche. Poi, a febbraio scorso, sono iniziate le operazioni di abbattimento. In tutto sono state abbattute 80 baracche, dove accadeva di tutto. Traffico di droga, prostituzione. Quattro operazioni di abbattimento che si collocano in un più ampio contesto di inchiesta, diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia. Orientativamente rimangono 13 ettari da lavorare per l'abbattimento definitivo del campo. Per chi abitava nelle baracche abbattute, sono state messe a disposizione dalla regione dei posti letto, così come sono stati messe a disposizione dei pulmini per i loro spostamenti, ma nessuno, al momento, sembra volerne soffrullire. In questa strada ci sono i negozi, naturalmente illegali. Uno euro e due euro. Due euro? Sì. Guardate quanto amianto. Anche i tetti di quelle baracche. Questa è una sorta di cabina elettrica che hanno creato, sono allacci abusivi e naturalmente molto pericolosi. Recuperano pezzi di mobili e costruiscono le baracche. Ma la mattina a che ora ti alzi per andare a raccogliere i pomodori? Alle quattro. E tu se devi andare a lavorare a raccogliere i pomodori? Il capo viene là, per il dirigente andiamo a lavorare. I caporali arrivano fino a dentro e vi arruolano. Tutti andare in a cura. E tutti andate. Ecco, la nostra inviata ci ha raccontato le condizioni di vita disumane, ci ha raccontato che lì veramente accadeva di tutto. Prefetto, com'è possibile essere intervenuti così con tanto tempo di ritardo, vent'anni? Bella domanda. Dunque, questa situazione si è effettivamente sviluppata nel corso di questi due decenni attraverso varie fasi. 20 anni fa, come lei ricorderà sicuramente, ci fu il conflitto nel Kosovo e in ragione dell'esigenza di dare ospitalità ai profughi di quell'area, nella zona di Borgo Mezzanone, sull'ex pista, parliamo di un sedime di 120 ettari, quindi un'estensione veramente notevole, vennero messe delle strutture per l'accoglienza temporanea dei profughi. Successivamente, finita quell'emergenza, il Ministero dell'Interno ritene di utilizzare un piccolo segmento di quest'area per realizzarvi un centro di accoglienza. Oggi c'è il cara appunto di Borgo Mezzanone. Intorno a quel centro di accoglienza, nel corso degli anni, gli immigrati cominciarono a utilizzare le strutture che erano state dismesse e hanno cominciato anche a costruire queste baracche. Ora, è chiaro che sono condizioni di vita estremamente difficili, come abbiamo visto nel servizio. Io ci sono stato alcune volte. Andarci, come dire, ti consente di comprendere ancora meglio di che cosa stiamo parlando. Il perché sia arrivato a questo punto non mi riguarda, nel senso che io cerco di, più che concentrarmi sui problemi, di concentrarmi sulla soluzione dei problemi. Ora, nel 2017, con il decreto legge 91, è stata introdotta la figura del commissario per queste aree particolarmente degradate. Parliamo non solamente di Forgia, ma anche di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, anche di Caserta. La finalità di questa norma è, in fondo, condensante in tre parole. La norma parla, innanzitutto, di interventi nelle zone dove c'è marginalità sociale, appunto, particolare degrado, e parla di integrazione. Questi sono i tre punti di riferimento su cui noi dobbiamo riflettere. Si è messo in atto un programma, un programma di sistema, che si è costruito nel corso dei mesi, e adesso questo programma è in atto. È un programma che ho avviato nel periodo in cui stavo a Forgia. Prima di me la collega Rolli aveva cominciato già a delineare un programma di interventi, di cui l'abbattimento è solamente una parte, è solamente una parte importante, ma non esaustiva. Parte importante, certamente, a cui io intesto porre atto nel più breve tempo possibile, perché è doveroso farlo. Non dobbiamo limitarci a guardare i problemi, dobbiamo intervenire sui problemi. Lo abbiamo fatto in perfetta sinergia con la Procura della Repubblica di Forgia, e lo abbiamo fatto tenendo presente l'esigenza, ad un lato, di ripristinare la legalità, perché non dimentichiamo che al di là del degrado c'è un discorso di illegalità. Parliamo di un terreno demaniale, occupato abusivamente, e in questo insediamento abusivo ovviamente c'erano anche attività illegali. E su questo noi avevamo il dovere di intervenire. E siamo intervenuti. I cittadini si aspettano, chiamiamolo, è un brutto termine, il risultato finale. È chiaro che lei ha precisato che si tratta di persone, è chiaro che c'è tutto un processo e tutto quanto, però io le chiedo anche, visto che due giorni fa, se non sbaglio, 60 immigrati hanno occupato la cattedrale di San Nicola a Bari, che è un luogo simbolo, per protestare contro lo sfruttamento. Adesso, per esempio, in Calabria c'è la questione dei pomodori, quindi anche lì altro sfruttamento, c'è la raccolta dei pomodori. Com'è che intendete contrastare, tenendo sempre presente che si tratta di persone, sfruttate, quindi non lo ridica perché è chiarissimo, come intendete contrastare il fenomeno della criminalità organizzata? Ma più che intendete, io mi permetto di correggere, qui noi lo stiamo già facendo, lo facevamo, l'abbiamo fatto, lo facciamo e sicuramente lo si sta continuando a fare a Foggia, l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo a Reggio Calabria. Intanto abbiamo gli strumenti. Uno strumento importante è la legge 199 del 2016, che ha introdotto delle sanzioni molto pesanti nei confronti di coloro che sfruttano la manodopera. Si tratta di reati particolarmente odiosi, come le puoi immaginare, perché si parla di sfruttamento di persone particolarmente esposte. Due, sia per quanto riguarda Foggia e adesso anche per quanto riguarda Reggio Calabria, come organi dello Stato, noi interveniamo innanzitutto con la prevenzione e con la repressione. Tenga conto che, per quanto riguarda ad esempio Reggio Calabria, è in atto, nel più vasto ambito del cosiddetto focus drangheta, che è un'attività di sistema di controllo, sono in atto controlli specifici per quanto riguarda il caporalato. Lei consideri che solo nei primi sei mesi di quest'anno sono state elevate sanzioni per oltre 700 mila euro. Ci sono sequestri, ci sono ovviamente sanzioni di anche... La domanda è, è passata una linea un po' più severa? I territori sono vastissimi, il fenomeno per debellarlo ci vorrà una vita, ma è passata una linea più leggera, più pesante, sì o no? Si applica la legge, che non è né pesante né legge, applichiamo la legge in maniera assolutamente fedele e attenta. Se poi questo si intende per severità, io dico che parliamo semplicemente di applicazione della legge. Ecco, c'è stato uno smantellamento, lo sappiamo, lei per prima parlava di Reggio Calabria, in provincia c'è la Baraccopoli di San Ferdinando, lì com'è adesso la situazione? Ma la situazione adesso è sicuramente più leggera rispetto a prima, i numeri sono stati notevolmente ridotti. Ricordiamo 1600 immigrati. Adesso sono 370 persone ospitate nella Tendopoli e il nostro intendimento è quello di superare progressivamente anche la Tendopoli. Noi riteniamo che l'abbattimento della Baraccopoli, che è un passaggio assolutamente importante e ineludibile, è solo un punto di passaggio, il punto di arrivo che peraltro è previsto anche dalla legge, si chiama integrazione per le persone regolarmente presenti sul territorio nazionale. E' chiarissimo, è stato chiarissimo, ringraziamo Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria. Grazie a voi. Grazie alla prossima.